Sono ancora in attesa di ricevere il denaro relativo ai terreni ceduti per la realizzazione dell'odierno Asia-attrezzato. 20 famiglie che insieme dovrebbero percepire una somma totale di 12 milioni di euro e che oggi, dopo anni passati in tribunale, assistono ad un rimbalzo di responsabilità tra Regione e Anas. La storia parte nel lontano 1967, quando fu costituito il consorzio industriale Chieti-Pescara, insieme alle due rispettive Camere di Commercio e 34 comuni del territorio. Successivamente tutto fu ceduto all'Anas, che però, nel momento del passaggio di pertinenze, non prese carico delle somme da versare a quei cittadini. Un impegno poi lo prese anche l'attuale vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, che a seguito di un'interrogazione del consigliere regionale, Domenico Pettinari, prese l'impegno di portare a termine l'impresa per lo scorso mese di maggio. Oggi il Movimento 5 Stelle torna a denunciare l'immobilismo e la beffa per quelle famiglie. Intanto è una situazione veramente vergognosa, oserei dire. Ho interessato la Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo costituì a suo tempo il consorzio industriale Val Pescara, un consorzio che praticamente sta in dissesto finanziato. La Regione Abruzzo si è spesa più volte per garantire di risolvere questo problema e quindi indennizzare anche Median dell'ANAS. Nulla di fatto. Queste persone non ce la fanno più. Sono oltre 20 famiglie che sono disposte veramente a tutto, perché la Regione Abruzzo si è impegnata. È l'unico ente in questo momento vicino ai cittadini, più vicino ai cittadini, che ha responsabilità di agire. Quindi agisca in fretta. Ricordiamo anche un'intervista del Presidente Alfonso che diverso tempo fa prometteva, garantiva la risoluzione di questa vicenda. Solo promesse sulla pelle di questa povera gente.